Ciao, sono Paolo, vengo da Pisa. Ciao, sono Flora, vengo da Brescia. Ciao, sono Alessandro. Io sono Paola e veniamo da Sanremo. Ciao, sono Antonio da Pisa. Ciao, sono Nicola. Ciao, sono Alessandro. Ciao, sono Alessandro e vengo da Milano. Ciao, sono Davide e vengo da Lodi. Ciao a tutti. Sono Ezio, vengo da Verona. Sono stato qua per settimane e siamo stati benissimo. Il sole è caldo, il mare è stupendo. Il posto è bellissimo, la struttura è fantastica, la gente è simpaticissima e disponibile. Ce lo fa con la famiglia, abbiamo passato la settimana stupenda. Vogliamo ringraziare l'animazione e tutto lo staff del Floriana. Abbiamo visto le tartarughe e tantissimi pesci facendo snorkeling. Bellissima. Sì, tutto, villaggio, animazione, sempre presenti, molto carini, molto disponibili ai ragazzi del bar, del ristorante. Bellissima settimana, abbiamo conosciuto gente fantastica, il villaggio è molto bello. Molto bella l'animazione. Spero di ritornarci presto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Alla prossima volta. Vediamo presto. Sì. Ciao, ciao. Arrivederci a tutti quanti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.